Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dì. Chialaite che la vita umane acquiste in umanità propite col piardi. Provate a pensare, ho vinto i nostri mari con la nascita e ho vinto guadagnato questo mondo, ho vinto la tetta e ho vinto guadagnato un mani variato, ho vinto la famiglia con l'asilo, con la scuola, ma ho vinto il matrimonio, con il sposarsi e ho vinto guadagnato una nuova vita. Quando è nato un frutto, oh Dio, si perde di una banda l'autonomia perché lui ha la specie di tutti i valori. Ecco, è lui che ha determinato che ci ha molto passato il tempo e tutto. E purtroppo stessi si guadagnano due viti, perché c'è che ha vinto il frutto, in bene o in male, ha la vita anche dei genitori. E dopo si piardino anche i frutti, quando si sposino, perché diventano l'uomo di una femmina e la femmina di un'uomo. Però quindi voi si ingrumano tre viti. Insomma, te vite, poi si piarda e poi si ha. Buona giornata e buona vita.